Di dove siete voi? Noi siamo di Treviso, Camera di Commercio di Treviso, che prodotte in un paese. Abbiamo i salumi, gli asparagi e i formaggi, prodotti di OQ. Quindi vi siete uniti per venire qua insieme. Questo è il gruppo della Camera di Commercio. Mi sembra troppo saporita, troppo pepata o va bene così, come la incontra i gusti? Bello. Che, quanta stagionatura ha? Questa ha quattro mesi di stagionatura. Mangi tutto assieme così e quindi ha il gusto vero del prodotto. Adesso insieme al dolgo, al dolano, beviamo un melanzo, un'altra ricordi. Ma è il palame quello lì o? Sì. Sopressa. Eh? Sopressa. Sampra è lontano da dentro. Sopressa, soppressa è la bondola. La bondola è un'altra cosa. Un'altra cosa. La soppressa è un prodotto tipico veneta. Quella è la soppressa così come il prodotto. Questa qua, quella è la regina di marca che è la soppressa che l'allonga dentro. Praticamente questa che vede sopra è inserita dentro la soppressa. Praticamente questa che vede sopra è inserita dentro la soppressa che vede sopra è inserita dentro la soppressa che vede sopra è inserita dentro la soppressa. Praticamente questa che vede sopra è inserita dentro la soppressa che vede sopra è inserita dentro la soppressa che vede sopra è inserita dentro la soppressa.